Musica Blocchi stradali e proteste in Napoli rivuole il reddito, cori contro il governo e la premier Meloni e l'annuncio di una marcia che arriverà fino a Roma per portare nella capitale il grido degli ex percettori del sussidio. Stamane nuovo corteo con circa 500 manifestanti. Cardarelli, meno accessi ma troppi codici verdi. Dopo il picco record dei giorni scorsi, il pronto soccorso del Cardarelli ha registrato 206 accessi, il 70% dei quali codici a bassa gravità, verdi e bianchi. Il DG d'amore commenta grande fiducia della gente per l'ospedale. Napoli, mensa dei poveri, emergenza estate aumentano in maniera drammatica le persone bisognose, i volontari che si occupano delle menze in città lanciano un appello. Situazione difficile, con il taglio del reddito di cittadinanza serviamo il doppio dei pasti ogni giorno. Forza Italia in crisi, Reale, meglio Mastella. Gli azzurri annunciano nuove adesioni nel Sannio, ma ex dirigenti come Antonio Reale sconfessano la linea politica del partito di Berlusconi. Cento volte meglio Mastella che soggetti in cerca d'autore. Avellino, ipotesi primaria, il PD cerca l'antifesta, il consigliere regionale DEM Maurizio Petracca prepara il terreno e scuote il campo largo. Entro fine estate il nome del candidato sindaco, ipotesi primaria è ancora valida. Spuntano le prime possibili candidature contro festa. Salerno, Fonderia e Pisano, lite sul trasferimento, scontro sulla delocalizzazione a Buccino. La regione ha autorizzato l'azienda a richiedere la valutazione di impatto ambientale, scelta contestata dal Movimento 5 Stelle. Ed i comitati dicono, ora chiudere fratti. Nei nostri titoli le principali notizie di oggi. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. Ci sono stati cori contro il governo e la premier Meloni e l'annuncio di una marcia che arriverà fino a Roma per portare nella capitale il grido degli ex percettori del reddito di cittadinanza. Oggi nuovo corteo con circa 500 manifestanti a Napoli, blocchi stradali. Per fortuna, nessun danno. Sentiamo. Tagli al reddito di cittadinanza e di nuovo protesta. A Napoli si è conclusa davanti la sede di Palazzo Santa Lucia della regione Campania la manifestazione che ha visto in mattinata scendere lungo le vie di Napoli circa 500 persone per reclamare lavoro e protestare. Anche davanti al Palazzo della regione, come in precedenza, i manifestanti hanno scandito cori ed esposto i loro striscioni. Il corteo era partito alle 11 da Piazza del Gesù per poi attraversare il centro storico, via Mezzocannone, Corso Umberto, via Acton fino ad approdare a Piazza Municipio e quindi a Santa Lucia. Lungo il percorso non sono mancati cori e insulti all'indirizzo del governo e l'attuazione di tre blocchi stradali sia pure di breve durata e con impatto minimo sulla circolazione. Non c'è un po' di me, perché noi prima avevamo la fine, ma non c'è, 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 non c'è. Che lei ha tolto il reddito va bene, ma doveva dare prima un lavoro e poi togliere il reddito. Sì, vogliamo un lavoro dignitoso, vogliamo vivere dignitosamente. Non vogliamo le ville al mare, però dobbiamo vivere dignitosamente. Da Napoli storicamente sono sempre partite le più grandi rivoluzioni. Napoli è una città creativa e viva. Vogliamo essere presi ad esempio in tutta la nazione. Ci sono le dignità, ci sono le mangiare, ci sono le mangiare, ci sono le mangiare. La polizia e i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antipafia nei confronti di nove persone. Sono accusate di tentata estorsione, detenzione e portodarmi e intralcio alla giustizia. Tutti commessi con l'aggravante delle modalità mafiosa. Il provvedimento è stato emesso in seguito ad un'indagine coordinata dalla DDA di Napoli in seguito alla denuncia del gestore di un ristorante a Volla, relativa a ripetute condotte estorsive ai suoi danni nei mesi di aprile e maggio. Le indagini hanno consentito di identificare i probabili autori dei reati e l'esistenza di un nuovo cartello criminale, composto da esponenti dei clan Prea, De Martino De Micco e Mazzarella, operanti nel quartiere Ponticelli. Le indagini sono riuscite a smantellare l'organo direttivo. Ed ora il pronto soccorso. Cardarelli dopo il record di ieri rientra all'emergenza, ma resta alto il numero di accessi. Il direttore generale d'amore, Adotto Channel, spiega che in questo periodo arrivano da noi anche i codici verdi e bianchi che potrebbero essere trattati sul territorio. Serve una svolta, il servizio. È un film già visto, barelle in fila, ore di attesa, esasperazione dei pazienti e i medici del pronto soccorso che fanno i salti mortali per garantire le cure. Al Cardarelli di Napoli, il più grande ospedale del sud, si registra ancora una volta un record di accessi. Un problema che si ripropone soprattutto nei giorni festivi. Dopo il picco del 7 agosto, il pronto soccorso ha registrato 206 accessi, di cui il 70% codici a bassa gravità, verdi e bianchi. Da qui l'appello del direttore generale, Antonio D'Amore. In questi giorni festivi il problema si ripropone perché sono un po' le strutture intermedie, quelle del territorio, i medici di medicina generale, che diciamo riducono la loro attività. E per qualsiasi problema di salute, anche per quelli che non necessitano l'intervento del pronto soccorso, la gente vede nel Cardarelli un punto di riferimento. Quindi da un lato questo, come ho potuto già altre volte dire, ci inorgoglisce perché comunque rimaniamo il punto di riferimento, se me lo lascia dire, di una sanità regionale. Ma dall'altro ci preoccupa perché i nostri operatori, a cui va in tutto il mio ringraziamento, potrebbero avere delle giornate molto molto intense. Questo chiaramente determina anche la lunghezza delle attese che si verificano per i codici invece di minore intensità. È chiaro che l'appello che noi rivolgiamo è laddove è possibile di rivolgersi per questi piccoli infortuni, lo ripeto, ad altri presidi. Un uomo di 49 anni è caduto da una scala da un'altezza di circa 4 metri e ora ricoverato in ospedale in Codice Rosso. L'incidente è avvenuto a Mariglianella, in un vivaio lungo la provinciale 275. L'uomo dipendente di una ditta esterna era impegnato nella copertura di una delle serre. Dopo la caduta è stato trasportato prima all'ospedale di Nola, poi al San Giovanni Bosco di Napoli ha riportato una frattura vertebrale. Indagano i carabinieri. Amuentano i poveri a Napoli, i volontari delle menze lanciano l'SOS. Con il taglio del reddito di cittadinanza serviamo il doppio dei pasti. SOS e povertà a Napoli. Dopo il taglio del sussidio del reddito di cittadinanza, le menze si ritrovano ad affrontare un'estate difficile. Volontari e gestori delle menze hanno riscontrato un aumento delle persone in difficoltà. Ogni giorno il numero dei bisognosi cresce sempre di più. La povertà non ha mai conosciuto la parola fine. Ha raggiunto livelli topici durante la pandemia, dopo la pandemia. e ancora oggi ci troviamo con numeri incredibili. Siamo in piena estate e grazie al mondo del volontariato diverse situazioni vengono alleviate. C'è da dire che alla nostra porta però attualmente stanno bussando anche persone che hanno oggi il timore di perdere quel poco di sostegno legato al reddito di cittadinanza. C'è tanto timore, c'è tanta paura, c'è tanta difficoltà. Devo essere sincero, una situazione del genere che va sempre più aggravandosi mette in difficoltà anche noi, non è semplice. E sono decine i volontari che si impegnano a dare una mano alla mensa. Questa esperienza ci ho tenuto a farla perché ho sempre pensato che arricchisce il cuore, l'anima e soprattutto mi dona molta serenità, molta pagatezza dentro di me. L'amministrazione Manfredi ha dato in concessione per 30 anni ad un canone irrisorio 20.000 euro al mese l'immobile di pregio sul lungomare al circolo tennis. Così si svendono i beni del comune o si fanno regali agli amici degli amici. Così in una nota protesta a Catello Maresca, una delibera estiva, aggiunge il leader dell'opposizione, come ai vecchi tempi della Prima Repubblica. È la solita politica che predica bene, si lamenta per i mancati introiti, i finanziamenti statali ridotti e razzola male. Nel nostro caso, continua Maresca, Manfredi e i suoi razzolano malissimo perché hanno aumentato tutte le tasse possibili, aliquota IRPEF e Tari su tutte e fanno regali ai circoli che notoriamente non hanno avranno tra i loro soci persone propriamente disagiate. È davvero una vergogna, oltre che una vicenda dai contorni legali, tutti da approfondire. L'attivismo di Forza Italia nel sannio con l'obiettivo dichiarato dei vertici di rompere l'egemonia Mastelliana, ma ex dirigenti come Antonio Reale sconfessano la linea politica del partito berlusconiano. Si occupino dei veri problemi del sannio. Un partito attivissimo nel sannio, quello di Forza Italia, con un parlamentare eletto, il giovane sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, molto vicino al leader azzurro Tajani e che negli ultimi mesi sta portando diversi amministratori tra le fila di Forza Italia, sfidando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Solo fumo però secondo chi Forza Italia l'ha già rappresentata nel sannio come Antonio Reale, ex assessore comunale e vice sindaco di Benevento. C'è solo fumo diciamo in quello che è l'operazione di far crescere questo partito, ma sono problemi di chi vive il partito e di chi deve costruire il partito, quindi non sono problemi che mi riguardano francamente. E' Reale assicura di volersi tenere lontano dalla politica, precisando però che a suo dire la situazione nel partito azzurro nel sannio è ben lontana da quella idilliaca che si vuol descrivere. Sono stato un cavo gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, poi sono stato assessore di Forza Italia con l'aggiunta Mastella, diciamo, nonché anche vice sindaco grazie alla Forza Italia. Il problema è che esisteva un partito, oggi il partito non esiste, cioè non esiste più questo partito, ma non lo so, andava probabilmente, va rifondato. Avellino verso le amministrative, il consigliere regionale Demma Maurizio Petracca prepara il terreno e scuote il campo largo. Entro fine estate il nome del candidato sindaco, ipotesi primarie ancora valida. Entro l'inizio dell'autunno il centrosinistra esprimerà il suo candidato sindaco a quale prossime elezioni amministrative a Avellino. Se il nome non verrà fuori dal processo di confronto interno alla coalizione, allora si andrà alle primarie, che restano l'opzione più sicura per mettere d'accordo tutte le anime che compongono il campo largo. Il PD prova a scuotere il dibattito interno, indicando un termine temporale per l'individuazione del profilo che dovrà sfidare Gianluca Festa alle elezioni di primavera. Entro la fine dell'estate noi dobbiamo venire fuori con la figura apicale. Devo dire che rispetto alle precedenti tornate elettorali è stato fatto uno sforzo alle segreterie dei partiti e al mondo delle associazioni per provare a stare tutti insieme sui temi e non contro qualcuno. Questo è il lavoro che stiamo facendo. È ovvio che a breve, a brevissimo, dobbiamo venire fuori con la figura apicale. Sia essa trovata insieme alle altre forze politiche e al mondo delle associazioni con le quali stiamo lavorando, altrimenti si potrà andare avanti anche con le primarie. Tra le fila dei Democrat non mancano le figure pronte a sfidare festa, a partire dai consiglieri di opposizione come Nicola Giordano, così come si valuta la candidatura di una donna come Enza Ambrosone che potrebbe rappresentare la novità di questa tornata. Anche tra i 5 Stelle si rincorrono i nomi, a cominciare dal consigliere Piccariello, ma non è escluso che i gruppi della coalizione scelgano un profilo super partes, un professionista della società civile in grado di competere anche con il nome che il centrodestra sta già cercando per tentare la conquista di Piazza del Popolo. Ed è scontro sulla possibile delocalizzazione delle fonderie Pisano a Buccino. La Regione Campania ha autorizzato l'azienda a richiedere la valutazione di impatto ambientale, una scelta contestata fermamente dal Movimento 5 Stelle ed i comitati incalzano. Bisogna chiudere a fratte. La Direzione Generale del ciclo delle acque e dei rifiuti della Regione Campania ha autorizzato i Pisano a presentare la valutazione di impatto ambientale per la nuova fonderia che dovrebbe sorgere a Buccino. I tecnici di Palazzo Santa Lucia, pur evidenziando diverse criticità nel progetto, hanno dato il via libera all'avvio dell'iter per la delocalizzazione dello stabilimento di fratte, una scelta contestata fermamente dal Movimento 5 Stelle, che con una nota firma del consigliere regionale Michele Cammarano ha bocciato Palazzo Santa Lucia, definendo allarmante la decisione. Per Cammarano, infatti, la delocalizzazione delle fonderie a Buccino impatterebbe negativamente sulla salubrità dell'ambiente e sull'indotto economico, sociale e turistico del territorio. Dura anche la posizione del Comitato Salute e Vita, che nel ribadire la necessità di delocalizzare le fonderie continua a chiedere la chiusura dello stabilimento di fratte. Noi riteniamo che la vita venga prima di ogni cosa, la salute dei cittadini e dei lavoratori venga prima del diritto di fare profitto da parte della proprietà, riteniamo che debba essere accertata tutta la verità e riteniamo che fratte vada chiusa immediatamente, che poi si apra a Buccino o altrove un impianto a norma, nuovo, che garantisca il lavoro, ben venga. Solidarietà al personale sanitario, ma l'episodio non va strumentalizzato. Siamo di fronte ad un paziente psichiatrico, così il sindacato degli infermieri Narsinghap di Benevento dopo l'aggressione registrata all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Sampio. Violenza, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale le accuse nei confronti di un uomo arrestato dopo che l'altra notte ha dato in escandescenza all'interno del pronto soccorso del Sampio di Benevento, danneggiando un PCM endo contro i sanitari e gli agenti delle forze dell'ordine accorsi per cercare di calmarlo. Si tratta di una persona arrivata a bordo di un'ambulanza, sembra per problemi psichiatrici. Un episodio che non deve essere strumentalizzato, il monito del sindacato Narsinghap. Si tratta di un paziente fragile, almeno per quanto riguarda le conoscenze che ho, di un paziente fragile, un paziente psichiatrico, quindi praticamente normale in questo periodo avere dei momenti di escandescenza. Noi possiamo dare la nostra solidarietà a tutto quanto il personale che si trovava in quel momento in servizio e alle forze dell'ordine che sono intervenute. Assolutamente non va strumentalizzato l'episodio di cui nessuno può essere preventivamente a conoscenza. Purtroppo sono degli episodi che quotidianamente accadono all'interno di un ospedale. Nelle prossime ore l'interrogatorio dell'uomo che chiedeva di essere ricoverato e sembra che proprio dinanzi al rifiuto, ovviamente motivato dei medici, il giovane abbia dato in escandescenza. Il cambiamento climatico e le prospettive di sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare e la nuova classe dirigente della Federazione Coldiretti Avellino questa mattina si è presentata alla città. Si è presentata questa mattina la nuova classe dirigente di Coldiretti Avellino. L'incontro si è tenuto presso la Camera di Commercio dove la Federazione Provinciale ha tenuto una tavola rotonda sulle proposte e prospettive di sviluppo dell'agroalimentare e agricoltura in Irpinia. La delegata giovane Coldiretti ha centrato il tema strettamente attuale del cambiamento climatico. Questo è il tema dei temi. Il cambiamento climatico lo stiamo vivendo ormai da diversi anni. Quest'anno peraltro sta attaccando in maniera prepotente una delle nostre filiere cardine che è quella vitivinicola, anche se chiaramente non soltanto quella. Questo è un tema complesso. Va affrontato entrando nel merito delle questioni. Io voglio ricordare che il nostro è un paese, compresa ovviamente la nostra provincia, che dal punto di vista della sostenibilità delle emissioni e tant'altro è il primo a livello europeo e probabilmente mondiale. Questo perché c'è stata una forte sensibilità di nostri agricoltori, delle generazioni che ci hanno preceduti, nell'essere più attenti e più responsabili nella gestione delle risorse naturali e non. Ci affiacciamo ad una fase che è complessa, perché molto spesso si parla di clima e si parla di ambiente, pensando che questa sia una responsabilità esclusiva dell'agricoltura e non invece credendo, come in realtà è, che l'agricoltura sia una grande chiave di volta. Noi ovviamente siamo pronti e in prima linea per fare in modo che tutto questo si possa realizzare, però ancora una volta tutto questo si affronta se staremo insieme, le imprese, i cittadini, i giovani, i meno giovani, con azioni concrete e quotidiane che ci dovranno appartenere tutti i giorni della nostra vita. Salerno si prepara al ponte di Ferragosto definito il piano sicurezza in prefettura con controlli sulle principali strade e uomini schierati nelle zone a maggiore impatto turistico. Il monito del prefetto serve responsabilità. Non ci sarà il pienone previsto, ma la provincia di Salerno si prepara comunque a vivere un ferragosto all'insegna dei grandi numeri, un trend monitorato con attenzione anche dalla prefettura, che nei giorni scorsi ha disposto un piano straordinario di controlli per garantire sicurezza e tranquillità. Sia i salernitani che i tanti turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze sul territorio provinciale. Abbiamo affrontato l'argomento sia sotto il profilo della viabilità, c'è stato un COV specifico, il COV è il centro operativo viabilità, insomma che comprende tutte le varie istituzioni che si occupano di viabilità e sono stabiliti tutta una serie di piani, che come molta attività della polizia stradale, dei carabinieri, delle polizie municipali che si occupano appunto di viabilità, sia abbiamo fatto due comitati relativamente a quelle che sono tutte le questioni di sicurezza. È chiaro c'è grande attenzione perché c'è grosso movimento di persone. Previsto dunque un ingente di spiegamento di uomini sia sulle strade che nelle realtà maggiore vocazione turistica. L'auspicio del prefetto però è che ci sia soprattutto collaborazione da parte di tutti per evitare eccessi ed episodi spiacevoli. Le forze di polizia ci sono sul territorio, sono attente, sono presenti, noi abbiamo stabilito chiaramente intensificazione laddove è necessario, un'attenzione maggiore. Chiaro che però la collaborazione dei cittadini aiuta molto, insomma. Noi auguriamo che ci siano dei comportamenti corretti da parte di tutti, però noi abbiamo predisposto i piani sufficienti e necessari per affrontare questo momento. Rendere più fruibile e quindi più viva la sede comunale di Palazzo Paolo V a Benevento è l'obiettivo perseguito dall'amministrazione che ha varato un nuovo regolamento per la concessione degli spazi dell'edificio lungo corso. Far rivivere Palazzo Paolo V i suoi spazi, le sue affascinanti sale, per garantirne la valorizzazione nella sua vocazione di casa della cultura è l'obiettivo del nuovo regolamento varato dal Comune di Benevento. Tanto aprire e far rivivere i palazzi delle istituzioni, così come i teatri, fino a qualche anno fa incomprensibilmente chiusi, è da subito stato obiettivo primario e prioritario di questa amministrazione. Questo regolamento che è stato approvato all'unanimità ha il duplice scopo di valorizzare intanto il patrimonio di cui disponiamo e al contempo rimpinguare le casse di un Comune che non dimentichiamo ha ereditato un distasto finanziario. E dunque l'amministrazione ha lavorato per semplificare i leader della richiesta e rendere gli spazi fruibili a coloro che vogliano usufruirne per esporre mostre, presentare i libri, organizzare piccoli spettacoli o per offrire un servizio di pubblico interesse, rendendo questi luoghi finalmente partecipatamente attivi. Sono tante le richieste che ci pervengono per la concessione in uso di questi spazi. Il palazzo è molto bello, dispone di varie sale e sono appetibili rispetto all'utilizzo delle stesse per convegni, per presentazioni di libri, anche per esposizioni di mostre. E sono sicura che adesso con questo regolamento sarà più semplice anche per noi la gestione. Incanto e magia sul sagrato del Duomo di Avellino con la rassegna jazz del Summer Festival e cresce l'attesa per il concerto di sabato con Daniele Silvestri a Borgo Ferrovia. Centro storico sulle notte del migliore jazz per l'Avellino Summer Festival con il primo appuntamento con Vanessa Tagliabue York. In un affascinante scenario, reso ancora più suggestivo dalle antiche mura del Duomo e i camminamenti del seminario, è stata alzata la prima nota della rassegna Jazz al Duomo che ha animato l'Avellino Summer Festival. La responsabilità di dare la possibilità al pubblico di cogliere la bellezza di cui abbiamo parlato fin qui e che è trasversale, che c'è sia nella musica rap che nella musica trap, che nella musica pop, che nella musica jazz. E questa è una responsabilità che devono raccogliere gli uomini politici di oggi. Come sta succedendo nell'Avellino Jazz Festival, Summer Festival, mi sbaglio perché metto la parola jazz dappertutto che l'amministrazione lo sostiene e ha creato questo bellissimo momento d'incontro. Tre giorni di musica nel centro storico con altri artisti del genere. Attesissima la presenza dei Gulfos Session di Vittorio Silvestri e Andrea Rea e Davide Cerreta a Montrio. Ma intanto cresce l'attesa anche per il Luma Nera, venerdì a Parco di Nunno. Sabato a Borgo Ferrovia sarà la volta di Daniele Silvestri, mentre domenica in Piazza Libertà arrivano Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi per un omaggio a Raffaella Carrà. Il 15 agosto a mezzanotte sarà grande tradizione con gli attesissimi fuochi piro musicali allo Stadio Partenio. 16 agosto torna la grande musica con Tananaia, Achille, Laure e Gaia a Piazza Libertà. E con questo è davvero tutto, era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel. Grazie a tutti.